Anche quest'anno mi è parsa che la manifestazione sia perfettamente riuscita, c'è stato parecchio movimento, i tavoli sono pieni, la gente è contenta. Speriamo che negli anni si possa ripetere questa esperienza. Un grazie a tutti quelli che hanno partecipato e hanno collaborato. C'era un sacco di gente, un sacco di occasioni per scambiare amicizia e poi comunque anche il programma mi è piaciuto molto. Bello, tradizioni affascinanti, è una cultura interessante, bello. Mi dà un'impressione questa festa abbastanza positiva perché so che rincontro gente che ormai ho perso di vista da tanti anni perché con il mio lavoro sono sempre fuori. E trovo che Cuncambias è un ritrovo per tutto lo che sono sperato e molto molto bello, molto positivo. Un altro anno qui a Cuncambias, bellissimo come sempre. soprattutto l'uomo immagine, zio Giulio. Cuncambias è un pari che dovrebbero essere arrivati all'interno del mondo. Perché non puoi trovare una situazione così, perché è raro. Ma non puoi trovare nulla cosa, come l'hospitalità, la città, la amici, la società e la società. Sì, per me è questo evento molto impressionante, vengo da Germania e non ho visto mai una cosa così. Sì, è bellissimo e soprattutto i fantasmi appesi sono stupendi. E no, io da Bergamo arrivo. Un'impressione a tema libero è la sorpresa di trovare una comunità per me. Venendo da una città grande dove tutto è completamente disgregato e dove anche noi col nostro teatro, col teatro La Madrugada, lavoriamo all'interno della città, è lavorare con un tessuto che da noi non esiste più. Da noi devi cercare di ritirare i fili, ricompattare, far conoscere le persone quella che è una a fianco all'altro. E qua invece questa cosa ancora esiste. Questa è l'impressione più forte che io ho. Mi raccomando, venite a San Sperate, perché qui l'atmosfera è veramente accogliente. mangiate di brutto, l'accoglienza è fenomenale, l'aria che si respira è micidiale in senso positivo, non vi ne pentirete. Poi c'è bella musica, bella gente. Venite, venite, venite. Ciao a tutti. L'edizione di Cuncambias di quest'anno è senz'altro peggiore di quella dell'anno prossimo, però è la migliore delle ultime sei, senza dubbio, e questo è un buon segno, vuol dire che tutto sta migliorando, che la qualità umana è sempre più alta, che l'atmosfera è sempre migliore, che le lenzuola prima o poi qualcuno se le dovrà riprendere, perché non ha senso dormire senza per più di una settimana, e che, come sempre, le persone fanno la differenza. Grazie. Grazie.